Nell'era digitale di oggi, le reti di computer sono parte integrante delle nostre vite. Ma cos'è esattamente una rete di computer? È un insieme di dispositivi interconnessi, come computer e smartphone, che comunicano e condividono risorse. Queste connessioni possono essere stabilite utilizzando cavi, segnali wireless e persino satelliti. Lo scopo principale di una rete è quello di facilitare lo scambio di dati tra dispositivi, consentendo un accesso efficiente e la condivisione delle risorse. Immaginate un gruppo di persone che lavorano insieme a un progetto. Se potessero condividere facilmente le proprie idee e i propri progressi, potrebbero lavorare in modo molto più efficiente. Questo è simile a come funziona una rete di computer, consente ai dispositivi di collaborare e condividere informazioni, con conseguente aumento della produttività e della convenienza. Fondamentalmente, una rete di computer opera sul principio della trasmissione dei dati. Quando si invia un messaggio dal proprio computer, le informazioni vengono suddivise in piccoli pacchetti di dati. Questi pacchetti viaggiano attraverso la rete, passando da un dispositivo all'altro fino a raggiungere la loro destinazione. Ogni dispositivo sulla rete ha un indirizzo univoco chiamato indirizzo IP che funge da codice postale indirizzando i pacchetti di dati al dispositivo previsto. Pensate all'invio di una lettera. L'indirizzo del destinatario ne garantisce la consegna. Una volta che i pacchetti di dati arrivano, vengono riassemblati nella loro forma originale, consentendo al destinatario di accedere alle informazioni. L'intero processo avviene in millisecondi, facendo sembrare che i dati vengano trasmessi istantaneamente. Le reti di computer sono disponibili in varie forme e dimensioni, ciascuna adattata a esigenze specifiche. Due dei tipi più comuni sono le reti locali, LAN, e le reti geografiche, WAN. Le LAN sono confinate a un'area limitata, come una casa o un ufficio, e sono facili da configurare per la condivisione di risorse. Le WAN coprono distanze maggiori, collegando più LAN o interi paesi. Internet è un esempio di WAN. Immaginate le LAN come piccoli quartieri collegati da strade locali, mentre le WAN sono come autostrade che collegano città e paesi. Internet, una rete globale di reti, ha rivoluzionato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo. È una vasta raccolta di reti interconnesse, che consente ai dispositivi di tutto il mondo di comunicare. Internet si basa su protocolli standardizzati, come TCP-IP, per garantire uno scambio di dati senza soluzione di continuità, tra reti diverse. Questi protocolli fungono da linguaggio comune, consentendo a dispositivi con sistemi operativi e hardware diversi di comunicare in modo efficace. Quando si accede a un sito web, si invia un'email o si guarda un video in streaming, si sta attingendo a questa vasta rete di reti. Internet è diventato indispensabile per la comunicazione, la condivisione di informazioni, l'intrattenimento e il commercio, abbattendo le barriere geografiche e favorendo la collaborazione globale. Le reti wireless hanno guadagnato un'enorme popolarità, offrendo maggiore flessibilità e convenienza rispetto alle tradizionali reti cablate. Il Wi-Fi, abbreviazione di Wireless Fidelity, è un tipo di tecnologia di rete wireless che consente ai dispositivi di connettersi a una rete senza fili. Le reti Wi-Fi utilizzano le onde radio per trasmettere dati tra dispositivi. Un router wireless funge da hub centrale, ricevendo i dati da Internet e trasmettendoli in modalità wireless ai dispositivi connessi. Immaginate un router wireless come una stazione radio, che trasmette segnali di dati che possono essere ricevuti da qualsiasi dispositivo nel raggio d'azione. Ciò elimina la necessità di cavi fisici, offrendo maggiore mobilità e flessibilità. Le reti Wi-Fi sono diventate onnipresenti nelle case, negli uffici e negli spazi pubblici, fornendo un comodo accesso a Internet a una vasta gamma di dispositivi. Le reti di computer offrono numerosi vantaggi, trasformando il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo. Un vantaggio significativo è la capacità di condividere le risorse in modo efficiente. Con una rete, più utenti possono accedere alla stessa stampante, scanner o file server, riducendo i costi hardware e migliorando l'utilizzo delle risorse. Questo accesso condiviso promuove la collaborazione e semplifica i flussi di lavoro, migliorando la produttività. Immaginate un posto di lavoro in cui ognuno avesse la propria stampante. sarebbe un incubo logistico. Con una rete, una singola stampante può servire più utenti, semplificando le operazioni. Le reti facilitano la condivisione dei dati, consentendo agli utenti di accedere e scambiare file senza problemi, eliminando la necessità di trasferimenti fisici di dati. Le reti hanno rivoluzionato la comunicazione, fornendo modi istantanei ed efficienti per connettersi a livello globale. L'email rimane un pilastro della corrispondenza, ma le reti sono andate oltre l'email. La comunicazione in tempo reale tramite messaggistica istantanea, chiamate vocali e videoconferenze, ha trasformato le interazioni. Immaginate di dover fissare un incontro faccia a faccia ogni volta che dovevate discutere di un progetto con un collega di un'altra città. La videoconferenza consente riunioni virtuali in tempo reale, risparmiando tempo e costi di viaggio. Le piattaforme di social media, basate su reti, collegano persone con interessi condivisi e facilitano le comunità online. Queste piattaforme hanno trasformato il modo in cui consumiamo e condividiamo le informazioni, plasmando l'opinione pubblica e influenzando le tendenze sociali. Sebbene le reti offrano numerosi vantaggi, introducono anche potenziali rischi per la sicurezza. Gli hacker e i criminali informatici possono tentare di ottenere l'accesso non autorizzato alle reti per rubare informazioni sensibili o interrompere le operazioni. Pertanto, è fondamentale implementare solide misure di sicurezza della rete per proteggere i dati e la privacy. Ciò include l'utilizzo di password complesse, la criptografia delle informazioni sensibili e il mantenimento del software aggiornato con le ultime patch di sicurezza. Firewall, sistemi di rilevamento delle intrusioni e software antivirus sono strumenti essenziali per la sicurezza della rete. I firewall fungono da guardiani, controllando il traffico di rete in entrata e in uscita, mentre i sistemi di rilevamento delle intrusioni monitorano l'attività della rete alla ricerca di comportamenti sospetti. Il software antivirus aiuta a rilevare e rimuovere malware che potrebbero infettare i dispositivi. Le reti di computer sono diventate profondamente integrate nelle nostre vite. Dal momento in cui ci svegliamo al momento in cui andiamo a letto, facciamo affidamento sulle reti per una vasta gamma di attività. Quando controlli il tuo smartphone per gli aggiornamenti sui social media, navighi in internet alla ricerca di notizie o guardi in streaming i tuoi programmi tv preferiti, stai utilizzando la potenza delle reti. Anche lo shopping online, l'home banking e l'istruzione sono diventati all'ordine del giorno, grazie alla comodità offerta dalle reti. Immaginate un mondo senza accesso a internet. Non potresti controllare la tua email, navigare sui social media o accedere alle informazioni online. Le reti sono essenziali per la comunicazione, l'accesso alle informazioni, l'intrattenimento e il commercio. Sul posto di lavoro le reti sono indispensabili per la collaborazione, la comunicazione e la condivisione dei dati. Il campo delle reti di computer è in continua evoluzione, con l'emergere di nuove tecnologie e tendenze. La crescente adozione del cloud computing, dell'internet of things e della tecnologia wireless 5G sta plasmando il futuro del networking. Il cloud computing consente agli utenti di accedere e archiviare dati e applicazioni su server remoti. L'internet of things connette gli oggetti di uso quotidiano a internet, consentendo lo scambio di dati e l'automazione. La tecnologia 5G promette velocità di trasmissione dati più elevate, minore latenza e maggiore capacità di rete. Con il progredire della tecnologia possiamo aspettarci applicazioni delle reti ancora più innovative. In conclusione, le reti di computer sono diventate una parte indispensabile del nostro mondo moderno. Ci connettono, ci responsabilizzano e ci forniscono l'accesso a una ricchezza di informazioni e risorse. Dalle reti locali alla vasta distesa di internet, le reti facilitano la comunicazione, la collaborazione e l'innovazione. Man mano che la tecnologia continua ad evolversi, le reti svolgeranno un ruolo ancora più cruciale nel plasmare le nostre vite. Comprendere le basi delle reti di computer è essenziale per muoversi nel nostro mondo sempre più interconnesso.